Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e il Vivio per la variante di Valico. Sulla Fipi Litra, Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina rallentamenti per animali su strada in direzione Firenze. Fare attenzione per nebbia a banchi segnalata in A12 tra Versilia e Livorno e sulla Fibili tra Firenze e Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. Sulla regionale due cassi a restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 270. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!